Giovanni Santonocito e Mauro Zingarelli della Slim Dogs presentano Nostos alla Ceno d'Oro, 47a edizione, e sono qui per raccontarci del progetto Nostos, come nasce, e vista la tematica post-apocalittica, a quali autori avete fatto riferimento per il modo di raccontare? Ok, allora rispondo prima alla parte dell'ispirazione, poi lascio che sia Giovanni a rispondere, che è uno dei produttori, a rispondere sulla modalità di produzione di questo corto un po' particolare. Allora, la questione particolare è che quando si tratta di cinema post-apocalittico, ovviamente c'è un enorme faro nel buio, che è quello di Mad Max, e è anche una cosa molto ingombrante. Quindi in realtà più che andare a pescare nei grandi classici del cinema post-apocalittico, io ho cercato di pescare delle piccole reference un po' più personali, nello specifico c'è un manga a cui mi sono ispirato particolarmente per tutto quello che era un po' la scenografia e i costumi, che è d'oro e d'oro. E è anche uno stile di vestiario che si chiama Techwear, che è molto popolare in Oriente. E proprio perché questo tipo di mostri sacri, appunto tipo Mad Max, tipo The Road, insomma, tutti questi enormi film che conosciamo tutti, è inutile cercare di evitarli. Escono comunque fuori in maniera automatica a un certo punto. Quindi io sapevo che sarebbero usciti fuori. Io sapevo che a un certo punto, infatti, uno dei personaggi ha una visiera che ricorda quella di Robocop, ha dei dread che ricordano quelli di un Predator, tutta una serie di reference, quelle arrivano in automatico. Quindi cerco di lavorare su delle cose un po' più personali, un po' più particolari, in modo che potessero emergere in mezzo a tutta una serie di reference che invece sarebbero emerse a prescindere. Giovanni, ti lascio la parola. La ringrazio. Allora, formalità. Per quanto riguarda la produzione, noi in Slim Dogs siamo principalmente, oltre a una produzione video, una società di comunicazione digitale. E quindi sostanzialmente abbiamo unito alle due cose. Quindi abbiamo deciso di produrre quello che era un cortometraggio, perché era da tempo che volevamo fare qualcosa, utilizzando un grandissimo mezzo nella comunicazione digitale nell'ultimo tempo, soprattutto con la pandemia, eccetera, che è stato Twitch. Noi già eravamo presenti da un pochino, da inizio pandemia, su Twitch. A un certo punto Marco Cioni, che è uno dei miei soci, responsabili del marketing dello studio, ha detto quanto potrebbe essere fico produrre un corto, ma raccontare interamente la produzione del cortometraggio online su Twitch. Che è una cosa fuori di testa, perché di solito tu fai un cortometraggio, lo fai in studio, lo fai il regista, le cose, eccetera, e dopodiché lo presenti al pubblico. Questa invece era un'idea che partiva da lo presenti al pubblico, ne parli al pubblico, e lo fai, e nel frattempo lo fai. E quindi, alla fine, la cosa che ci ha preso subito, tutti ci siamo convinti subito, il progetto poteva essere fico, poteva avere grosse potenzialità, Mauro come regista era immediato, collabora con noi, e fa parte di Slim Dogs, Mauro praticamente collabora con noi da tantissimo tempo, quindi sapevamo che il prodotto sarebbe stato sicuramente notevole. Quindi, dai e famolo, e abbiamo cominciato a organizzare tutta una serie di appuntamenti, in live su Twitch, con la nostra community, che è molto grossa, di cui andiamo molto orgogliosi, onestamente, perché sono abbastanza esperti, anche per quello riguardo il mondo del cinema, e hanno fame di sapere delle cose, e quindi dall'idea, la scrittura e la sceneggiatura, le riunioni di preproduzione, con i costumi, con le cose e tutto, abbiamo mandato tutti in diversi appuntamenti su Twitch, fino ad arrivare a quella che poi è stata la proiezione. E la cosa bella, come dicevamo appunto anche nella proiezione prima, è stato che la community si è sentita immediatamente parte del progetto, conoscevano tutto del progetto, e quindi quando a un certo punto siamo stati sul set, e loro hanno visto anche quello, perché è andato in live oppure quello, a corto finito, tutti non vedevano l'ora di vederlo, e quello è stato bellissimo. Poi, festival, eccetera, eccetera, sta andando in giro fortunatamente il corto, e siamo contenti che finora l'impatto è stato positivo, non c'è ancora nessuno che ci vuole menare, e di questo siamo felici. Grazie. A voi. Vi faccio un'altra domanda. Avete parlato del confronto e il dialogo con la vostra community durante la lavorazione anche dello script, quindi era interessante capire i tempi in cui avete chiuso la fase di scrittura prima di iniziare la produzione vera e propria, proprio in relazione a questo confronto che avete avuto. se, ad esempio, ci sono stati degli spunti che magari all'ultimo secondo sono arrivati e vi hanno fatto brillare, insomma, delle nuove idee in testa per cui vi siete rimessi a lavorare sulla scrittura. Allora, sì, nel senso, il corto è stato realizzato in un tempo molto breve per questo tipo di progetto, nel senso che il progetto, se non ricordo male, è stato annunciato a settembre. Io ho una reference molto specifica perché so che io e te a Natale stavamo montando il cortometraggio e quindi so che era finito nella prima, seconda settimana di gennaio, indicativamente. Quindi, in realtà, siamo andati molto velocemente, credo che a ottobre abbiamo trovato l'idea, a dicembre, la prima settimana, la seconda settimana di dicembre, abbiamo fatto le riprese. In quel periodo, da ottobre a fine, a metà novembre, in cui abbiamo chiuso la sceneggiatura con lo sceneggiatore Tommaso Renzoni, è stato un periodo molto ricco di svolte perché da prima abbiamo appunto raccolto l'idea da uno dei membri della nostra community, quindi questo pitch di due righe che ci sembrava interessante. Con Tommaso e Cydonia e Marco l'abbiamo smontato e abbiamo detto ok, cosa ci interessa di questa storia, come possiamo farlo diventare da due righe un cortometraggio di venti minuti. Come capiamo questo, capiamo questo, capiamo quest'altro, c'è stato addirittura un momento in cui abbiamo scritto tutta quanta la sceneggiatura, l'abbiamo guardata, non ci convinceva, abbiamo fatto a monte. Ricominciamo. E c'è stato un momento di panico perché ovviamente la preproduzione era già partita, stavamo già cercando le location, una follia. Però poi in realtà siamo ritornati all'idea originale, semplicemente ci siamo riarrivati facendo un giro esterno che ci ha permesso di aggiungere nuove idee. E a quel punto poi quello che abbiamo fatto è stato trovare delle svolte da poter proporre alla nostra community. Quindi una serie di piccoli momenti all'interno del corto erano tre in totale in cui la community ha potuto scegliere preferiamo che succeda A, preferiamo che succeda B. E lì in realtà la questione è stata semplicemente durante le live di scrittura informare i e i nostri membri della community che cosa comportava ogni scelta. Cioè teniamo presente che se succede A significa questo per il personaggio e se succede B significa questo per il personaggio. Quindi capiamo tutti insieme cosa vogliamo raccontare, cosa vogliamo che emerga da una determinata scelta ed è stato molto molto divertente e molto molto stressante anche. Non so se Giovanni vuoi aggiungere qualcosa. L'unica cosa che posso aggiungere si può dire che io per esempio in quel particolare momento mi cagavo sotto cioè ero terrorista cagavo sotto un termine tecnico e ero terrorizzato perché a un certo punto c'è qualcuno che uccide qualcuno e il discorso era chi lo uccide dei due per me era molto importante per quanto mi riguarda a livello di storia per come immaginavo io che fosse uno piuttosto che un altro e l'impatto con la community l'ho sentito tantissimo per la serie speriamo che decidono questo piuttosto che quest'altro e poi fortunatamente non lo dico mistero mistero chissà che è successo effettivamente c'era ragione lui perché lui quello che ha scritto tutto insieme a Tommaso lui è sparito tipo psicologicamente per un tot di tempo mentre che scriveva la sceneggiatura con Tommaso si sono trovati subito e questo è stato fichissimo. In sala avete parlato del mercato più o meno e avete inquadrato il cortometraggio come qualcosa che è sempre l'anticamera di un film quindi ci dobbiamo aspettare un film della Slim Dogs allora il cortometraggio sì di solito è l'anticamera di un film noi come Slim Dogs come ti ho detto prima ci occupiamo principalmente di comunicazione digitale quindi diciamo che il mondo del cinema come lungometraggio fiction non è nelle nostre corde stiamo lavorando da un po' di tempo abbiamo già collaborato con Rai per dei documentari Matteo si occupa sul suo canale youtube di documentari sta facendo dei documentari su vari personaggi del web eccetera quindi non lo so onestamente cioè non è diciamo la nostra strada non è il nostro obiettivo quello di cui sono sicuro e adesso non gliela voglio buttare è che questo è un ottimo anticamera biglietto da visita per Mauro come regista quello di quello ne sono sicurissimo quindi in ogni caso secondo me questo corpo c'è gente che chiede a Mauro ma dai dimmi che stai sviluppando il film della storia perché ce l'hanno chiesto in molti è una cosa adesso è una cosa su cui non si può in realtà sapere soprattutto per come siamo combinati noi quello che ti posso assicurare è che Slim Dogs spera tanto che Mauro Zingarelli possa prendere fare finalmente il suo primo lungometraggio anche perché se il cortometraggio è un bigliettino da visita siamo abbastanza convinti che questo è un ottimo bigliettino da visita per il lavoro di Mauro è molto gentile però sì rincarando la dose la questione è che per me sì cioè per me è l'anticamera di un eventuale spero molto prossimo molto prossima opera prima per me nel senso che io una cosa che dico spesso è che io più di così non posso fare nel senso a un certo punto nel senso più di 20 minuti post apocalittici mi sembra un po' difficile mi dovete dare un po' più di tempo e per quanto riguarda ovviamente la storia sta tutta una una lore dietro che è scritta esiste poi ecco se il mio primo film sia un'espansione di questo mondo un'altra cosa al momento è un po' difficile dirlo però sicuramente la mia intenzione è arrivare a lungometraggio adesso come ultima domanda in realtà vi chiedo di lasciare un pensiero positivo per il laceno come festival come momento cinematografico anche per la città in cui si svolge che è un provincio guarda se posso io in realtà senza come dire senza fare il ruffiano perché non è una cosa che mi sono preparato però devo dire che è stata una bellissima esperienza perché come dici tu è provincia si tratta comunque di un luogo non al centro del mondo nonostante questo io sono arrivato e ho trovato un sacco di gente in sala una situazione estremamente accogliente tutti quanti che erano tutti felici è stato molto molto bello nel senso è un posto in cui non erano quelle questioni di ah vieni sì c'è ancora un festival di provincia vieni vediamo che succede forse ci sta una persona che tossisce in fondo alla sala invece no c'è un sacco di gente certo c'era una persona che tossiva però non era l'unica era quella la questione quantomeno non era l'unica persona in sala la sala è la piena e in generale vedo che ci sono un sacco di persone interessate al cinema questa è una cosa molto bella perché sono anche tutte molto giovani quindi questa è un'ottima cosa e quindi complimenti perché è stata veramente una bella esperienza Mauro è stato pazzesco vedi perché ce lo portiamo in giro no in generale il discorso dei festival piccoli che poi è tanto piccolo la 47esima edizione cioè il festival di provincia secondo me sono quelli un po' più difficili nel senso che il festival quello grosso c'è sempre un po' un non so non si possono dire certe cose perché poi il festival grosso ti pare che la gente ti viene a dire invece quando vai su realtà più vere come il laceno d'oro lì ti trovi veramente con un pubblico che se te devi una cosa te la dice e quindi per me sono quelli che io trovo più veri a volte e che sono quelli un pochino più complicatelli e invece come diceva Mauro abbiamo avuto un super quindi c'è un super accoglienza quindi cioè il corto funziona grazie ragazzi meglio così grazie ragazzi grazie a te grazie a te